È un momento delicato alla famiglia, perché poi c'è una sensibilità diversa, quindi c'era mio padre che si accese la sigaretta guardandomi, come della serie, molto bene, molto bene figliuolo. Eccellente, eccellente. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, questo vuol dire nuovo incontro, aggiungerei mega incontro. Adesso aspetto un attimo a farvi capire tutto il mio entusiasmo e intanto ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e viva, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube, se ci state ascoltando su Spotify. Continuate a farlo anche lì, ci si può vedere, si può scaricare, insomma un sacco di cose. Restate con noi, ma sono certo che adesso non ve ne andrete assolutamente, perché attenzione, questa cosa è successa, sta accadendo e io ne sono molto felice, perché dal Basement è passato Cesare Cremonini. Buongiorno, ciao, buongiorno. Ciao a tutti, che bello essere qui rilassati, una giornata di relax, no? Questo è lo spirito, sai che adesso il termine che si usa in assoluto nel mondo giovane, io ogni tanto mi faccio influenzare. Siamo nel chill, siamo nel chill, pensavi peggio, no perché era una roba che già esisteva. Chill è una cosa che leggi soprattutto sotto alle foto delle tue amiche quando sono in relax, no? Che scrivono chill. Chilling, chilling time, le playlist chilling, c'è tutto quello. Per me è legato più la musica a l'ancio, no? Che tra l'altro hanno musica che non amo particolarmente, però amo relax, questo sì. Adesso è tutto un po', siamo nel chill. Ci tenevo un sacco perché anche il tuo spirito, poi in realtà la figata allo stesso tempo è che è bello che stia succedendo oggi questa cosa, ce lo dicevamo prima. Cosa è successo oggi? No, è successo che ci stiamo incrociando e conoscendo anche, cioè è una sorta di primo appuntamento. Sì, sì, perché noi ci siamo scritti, chi ci ascolta non lo sa, ci siamo scritti un po' di tempo fa, anzi tu mi avevi scritto. Sì, sì, certo. Ma questa cosa di scrivere su Instagram è una cosa un po' così… Vabbè, ma io non oso immaginare i DM di Cesare. No, no, questi non li conosco, non li conosco. No, 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 sai che non so nemmeno cos'è un DM, nel senso che Instagram è una cosa che guardo per le foto, per i miei post, mi piace scrivere, come dire, esprimermi, no? Sì. Scrivere qualcosa che continua a raccontare un po' l'evoluzione del day by day. Sì, perché c'è un'evoluzione larga nel mio mondo, nella musica, nell'intrattenimento musicale, l'artista si muove, come dire, su passi larghi che sono quelli dell'album, no? Sono progetti di due, tre anni. E questa è una cosa che è fin da bambino che nella mia testa esiste, no? La mia vita è un armadio che cambi ogni tre anni, ti rivesti di nuovi vestiti ogni due, tre anni. E poi però c'è anche un day by day che fino a quando non c'erano i social era difficile comunicare, no? Cosa succede in tre settimane nella tua vita? E a volte nella vita mia, che è una vita di ricerca in qualche maniera, ma più dentro di me che esterna, a volte tre settimane sembrano una vita. E questo, riuscire a comunicarlo con Instagram o con i social è una cosa che oggettivamente mi piace. Però sui messaggi sono in difficoltà. E quindi avevo perso il tuo. Ma che avanti, no? Avevo perso il tuo messaggio. Ti ringrazio perché poi nel risentirci hai detto delle cose molto belle che porterò per sempre nel cuore e di conseguenza eccoci qui. Quindi no, più che altro dicevo, succede anche adesso perché poi sono successe anche altre cose, in particolare anche nella tua vita. Insomma, io ti ho seguito come si segue un travel blogger di livello altissimo perché tu hai unito il fatto di saper trasmettere delle emozioni, perché non lo fai solo con la musica, lo fai anche con la scrittura, alle emozioni che si trovano nei viaggi. Tu hai girato alcuni dei posti che a me piacciono, alcuni posti che mi piacciono particolarmente e quindi è bello perché insomma ti avrei fatto anche un sacco di domande su questa cosa qui. Se ci fossimo visti prima non avrei potuto. Come è andata questo viaggio? Che roba hai fatto? Il viaggio fra me e te è una cosa che è un punto di collegamento. Cavolo! Ho visto che come dire anche poi l'America in generale non è un punto di riferimento e quindi è giusto, è bello che ci vediamo adesso dopo questo viaggio. Di brutto. È stato un viaggio molto molto grande, proprio un viaggio come dire che è partito con degli obiettivi, con delle idee molto vaghe. Sai quando sai per partire per un posto, per un viaggio ma non hai un po' paura di dove stai? Ma tu cosa avevi già programmato di quel viaggio lì? Cioè tu sapevi dove andavi, dove partivi e dove dovevi arrivare? No, no, io che sono un viaggiatore, come dire, nella mia intimità ho sempre fatto viaggi di questo tipo, io parto e non ho una meta, vado dove mi porta il cuore e cerco di improvvisare il più possibile. Perché questo per me è il modo di perdermi, che è uno degli obiettivi a cui mi pongo quando faccio un viaggio. Ma in questo viaggio in particolare invece aveva un sogno, più che una meta, che era l'Alaska. Io avevo finito un tour molto molto impegnativo di Stadi, più Imola, più Ipala Sport e venivo da due anni molto particolari. C'era stato Sanremo di mezzo, c'era stato un cambio anche all'interno del mio management, un cambio di vita, un cambio di studio, un nuovo album, La Ragazza del Futuro, che era stato scritto e creato durante la pandemia. Sono stati due anni veramente molto importanti per la mia carriera e per la mia storia, ottenendo dei risultati incredibili anche. Imola, di fianco a casa tra l'altro, cioè un luogo tra l'altro così iconico, così storico, così importante. E forse è stato un momento in cui ho toccato veramente con mano alcuni dei sogni che mi portavo dentro da quando ero bambino. Perché gli Stadi, i grandi spazi, i grandi concerti erano uno dei motori della mia carriera, della mia essenza come artista e come musicista. E incredibilmente però, quando è finito il tour, quando sono tornato a casa, ho detto ok, adesso mi godo un po' la mia città, mi godo Bologna. Poi in quel momento è successo qualcosa, cioè è come se in qualche maniera fossi rimasto. Un po' aggrappato io, ma anche se vuoi invaso, ecco, da tutto quello che avevo visto, tutto quello che avevo vissuto. E io per proteggere il binario delle canzoni sono disposto sempre a qualsiasi cosa. Cioè io so quando quel binario è libero e il treno della creatività può viaggiare e quando invece fa più fatica, per mille ragioni, può essere un amore, può essere un tour, il successo, può essere il rapporto con la tua famiglia. Sono mille motivi per cui la creatività può essere disturbata. Io sentivo che avevo bisogno di dimenticare anche qualcosa che avevo vissuto, anche se era straordinario. Cioè avevo bisogno di tornare alla mia essenza. Ma hai vissuto anche un po' quel contraccolpo della botta di adrenalina che ti dà... Enormemente, enormemente. La botta di adrenalina che è scesa da miliardo a zero è stata molto forte. Però devo dirti anche questo. Lavorare su un tour, lavorare su un grande progetto con grandi ambizioni, con grandi numeri, è anche un lavoro molto grosso, come dire, sull'immagine, sulla comunicazione. E onestamente dopo due anni che guardavo me stesso in un telefono, avevo bisogno proprio di cancellarmi. Cioè di togliere al mio ego quel modo di intendersi. Ecco, si era sicuramente gonfiato, avevo avuto tanto nutrimento. Però onestamente io sapevo che questa cosa non mi avrebbe portato certamente a fare un nuovo disco. Ho fatto la stessa scelta, esattamente la stessa identica scelta, vent'anni prima. Sono stato in Messico e poi in Brasile e in Argentina. E ho fatto esattamente la stessa strada verso il sud. Cioè ho fatto la ruta 40, no? In questo caso sono andato a nord verso l'Alaska. E vent'anni prima, nello stesso mese tra l'altro, dopo il Lunapop, alla fine del grande, grande, grande esplacono il Lunapop, avevo sentito l'esigenza di voltare pagina, voltare proprio capitolo. Perché per crescere, come dire, gli eventi troppo importanti, troppo grandi, anche il successo più importante, possono essere anche un ostacolo. Cioè comunque ti adagi sulle cose che ti arrivano. E io non sono mai stato una persona che è stata nella sua zona di confronto. Questa cosa è una roba che ti è venuto naturale o ti ha anche ispirato qualcuno qualcosa? Cioè il fatto di dire il viaggio, questo tipo di esperienza, può essere quella cosa lì che mi fa fare questo tipo di cambio, di switch? Secondo me il viaggio è un contenuto poi, no? Che tu devi andare a cercare. E io, l'ho capito poi viaggiando, stavo cercando soprattutto l'autenticità. Cioè questa parola che fai fatica a mantenere, come dire, a tenere stretta fra le mani quando hai così tante sollecitazioni, quando hai così tanto, anche così tanta ambizione, così tanti obiettivi, no? Poi l'autenticità è stata il motore di tutto il viaggio, è stata la ricerca di tutto il viaggio. Tant'è vero che sono andato a recuperare piano piano lungo l'America proprio le scintille dal quali era partito il fuoco da cui la mia carriera si è poi, come dire, ampliata, si è espansa. Che è quello che mi fa poi ribollire il sangue nelle vene, cioè è quello che mi accende veramente. Cioè tipo? Io cercavo quella autenticità. E c'è l'origine della musica, no? Ho cercato, l'ho capito poi, ripeto, durante il viaggio, Johnny Cash, Dylan, Elvis, Kurt Cobain, Martin Luther King. Cioè, lungo questo viaggio che attraversava l'America, ho cercato l'origine delle cose, ho cercato l'origine di quello che poi è il tessuto su cui tu ricami la storia della tua vita, la storia della tua arte, della tua musica, dei tuoi progetti, della tua esistenza. Ed è stato molto emozionante. Ma non solo, anche nel tessuto sociale, dei luoghi in cui andavo, ho riconosciuto l'autenticità come il vero obiettivo, come la vera cosa che i miei occhi stavano cercando, anche a Miami, che è una città che non vedevo da un po' di anni, che come sempre in America tutte le cose si muovono velocemente, è cresciuta tantissimo, è cambiata. Mamma mia, in questo periodo? Però anche lì, nella parte di Miami di origine sudamericana, che ancora comunque ha una sua identità nei mercati sociali che ci sono nella periferia di Miami, che ho stato a visitare, oppure in tutte quelle zone rurali dell'America, dove una bandiera tiene insieme uno spirito di sopravvivenza, che sennò probabilmente scoppierebbe, anche quella per me è l'autenticità. E fino ad arrivare poi al massimo dell'autenticità possibile, che ovviamente è il contatto con la natura e l'Alaska. Beh, quello deve essere una botta di emozioni. Cioè, io leggendo quello che tu scrivevi, quando raccontavi, cioè proprio percepivi, che credo che poi sia anche il tuo grande dono, cioè percepivi di essere lì, cioè quello che tu stavi vivendo in quel momento, che deve essere una roba, cioè chi l'ha provata probabilmente lo sa, però è quel contatto con la natura così forte. Beh, è molto importante. Soprattutto perché poi arriva alla fine di un viaggio, no? Cioè, comunque, è al culmi di tutta una serie di altre emozioni che hai provato. Sì, è stato un viaggio proprio completo. È stato completo perché ho attraversato, ho fatto un percorso io di distacco. Quanto è durato in tutto? Due mesi. Due mesi. Di distacco completo da tutto me stesso. È incredibile come oggi è l'obiettivo più forte. Quello che volevo era riuscire a staccarmi dalle cose. Certo. Cioè, non essere condizionato. Ecco, volevo trovare semplicemente la mia autenticità, perché è quella da cui nascono le mie canzoni, no? E questo è un lavoro che tu fai. Non lo puoi dare per scontato. Ecco, nel mio caso non riesco a dare per scontato. No, ma tu scrivi in quei casi quando sei in giro o accumuli tutto e poi scrivi quando torni? Faccio entrambe le cose. Cioè, a volte scrivo, ho scritto ovviamente, mi misuro con dei bisogni, dei desideri di scrittura. Non c'è il tempo, secondo me, quando sei in viaggio proprio di scrivere la canzone, no? Perché ha bisogno di un... Una volta un bambino mi ha chiesto ma quanto ci vuole a scrivere una canzone, no? E la risposta giusta, secondo me, è che le canzoni più belle sono quelle che nascono in cinque minuti, quindi ci vuole molto poco a scrivere una canzone, ma solitamente le canzoni che nascono in cinque minuti sono nate 50, 100, 20 anni prima, mille anni prima. Cioè, e quindi un viaggio è quella cosa che tu attraversi, sapendo che stai accumulando tantissime informazioni, tantissime visioni, e non devi pretendere di scrivere lì una canzone, ma devi avere fiducia che questa semina che ti sta avvenendo dentro poi darà dei frutti improvvisi e molto più importanti due, tre, quattro, sette, otto mesi dopo. E questo è, secondo me, il vero contatto con la magia dello scrivere canzoni. Cioè una canzone non puoi sapere come si scrive. Puoi imparare a vivere perché venga scritta, questo sì. Fighissimo, fighissimo. Visto che sei andato anche a vedere Super Bowl, che a quel punto se vai a vedere l'America devi andare a vivere anche allo sport. È stata una grande botta di fortuna perché in realtà è stato un viaggio dal punto di vista karmico. Vedi, perché poi le cose in qualche modo le fai succedere comunque tu. Le fai succedere perché io credo nel karma o meglio, credo in quella cosa nella quale tu ti predisponi perché le cose migliori possono venire. Ti sposo totalmente. O forse non vedi le cose brutte, vedi sono le cose belle e segui la cosa bella, no? Insomma, vai a capire cosa è il karma. Però quando tu viaggi e ti metti nell'ordine dell'universo, parlavo di Alaska, parlavo di Aurore Boreali, secondo me poi il karma ti mette in una buona luce. Mi sono trovato stranamente negli appuntamenti giusti, guarda, è stranissimo. Cioè, tutto combaciava, ma io stavo improvvisando. E quindi, sai, quando ti dici, ok, adesso mi piace stare qui in questo luogo e voglio andare a vedere quella foresta o quel parco nazionale. volti, vai e dici no, voglio stare qui due giorni in più. Quei due giorni in più determinano che dopo tre giorni trovi perfettamente la cosa giusta dove vai. È stato tutto incredibilmente estremamente positivo. Quindi mi ha lasciato una bellissima sensazione anche di feeling, no? Il feeling con la vita, il feeling con il viaggio. È una cosa molto importante. Quando va tutto bene... E poi quella roba lì te la porti tantissimo quando torni e ti dà energia per tutto il resto. Ti dà un nuovo feeling, no? Come direbbe Vale, ti dà un po' di feeling. Ti dà un po' di feeling. Un po' di feeling con la moto. Un po' di grip, dai. Quella cosa, diciamo, che serve ed è importante. Allora, ricollegandoci con lo sport, adesso ti dico questa cosa. Cioè, per me, tu... Vediamo, adesso è un ragionamento non è complesso, però... Secondo me, tu sei, hai fatto per la musica quello che Lebron James ha fatto per il basket. Seguimi. Cioè, Lebron James è l'unico nella storia, o uno dei pochi, che è riuscito a conversare, a fare un'impresa talmente epica, sportiva, a un certo punto, quando nel 2016 ha ribaltato totalmente una serie finale che nessuno aveva mai fatto nella storia e addirittura ha cambiato l'opinione pubblica anche su di lui. Su alcune cose, insomma, anche alcuni haters si sono ricreduti dopo questa tipologia di impresa. tu sei l'unico che io sa, cioè, per la mia esperienza che nella storia della musica è riuscito a uscire da un immaginario di una boy band di grande successo a diventare un cantautore apprezzatissimo e quindi avere anche credibilità in quella cosa lì. Ora, non so se la metafora ti torna, però... Innanzitutto non sono l'unico che ha fatto un percorso di quel tipo. In Italia forse... Sì, io mi riferisco all'Italia nel senso che l'Italia poi vive tantissimo di questi timbri per cui se tu fai quella cosa e tu stesso non è che l'hai fatto da un giorno all'altro cioè c'è stato un percorso molto lungo dovuto a tante cose però la sensazione è proprio quella che sia un'impresa davvero difficile riuscire ad uscire da un successo così grande e avere un'anche credibilità poi così grande e un successo a tua volta e lo abbiamo visto ancora di più negli ultimi anni soprattutto con questo tipo di percorso Innanzitutto grazie per i paragoni io eviterei i paragoni così altissime perché mi mettono abbastanza l'ho detta io l'ho detta io voglio dire io sono uno di quelli che crede che la musica lo sport cioè riconoscendo valore artistico allo sportivo come proprio indole secondo me i gesti atletici sono gesti artistici non ci vedo niente di differenza differente io credo che tutti i gesti artistici del mondo siano collegati l'uno all'altro per cui detesto i paragoni troppo grandi perché non aiutano al ragionamento è più sul processo sono anche divertenti è una provocazione però credo nonostante questo che ci sia un collegamento fra tutti gli artisti dai più grandi che hanno fatto la storia della musica ai più piccolini e quelli di cui nessuno parlerà io credo che ci sia comunque un'interazione e quindi è giusto mettere di fianco a volte i più grandi con anche i più piccoli o quelli che hanno avuto grande successo o quelli che meno tant'è vero che molto spesso i grandi grandi artisti citano fra le loro influenze artisti sconosciuti o piccolissimi quindi pensa quando invece è molto importante metterli insieme per quanto riguarda la mia storia devo dire la verità la si può leggere sotto più punti di vista sotto più piani di lettura ci sono diverse prospettive attraverso la quale io stesso rileggo la storia della mia carriera che è una storia sicuramente rara sicuramente abbastanza unica nel panorama italiano da questo punto di vista però ecco se tu mi chiedi è stata un'impresa titanica ti rispondo conoscendo il mio paese sì perché è un paese che etichetta che fa fatica a uscire dall'etichetta è un paese molto legato all'etichetta che offre la televisione e io sono stato come dire ho iniziato la mia carriera musicale con un successo talmente grande anche televisivo che ovviamente ha segnato enormemente la mia vita la mia esperienza dentro il mondo della musica e il mio rapporto con il pubblico però sono stato sempre un ragazzo abbastanza coraggioso io ho creduto davvero che le canzoni lavorate in un certo modo scritte in un certo modo dandogli il valore che gli ho sempre dato fossero opere che anche nella loro gentiletta avessero una lunga vita molto più lunga del mio sguardo ho avuto fiducia in questo e ho lavorato moltissimo soltanto in questa direzione e ho pensato che la coerenza che non vuol dire non cambiare ma la coerenza nella propria etica professionale nel proprio mestiere è una cosa che supera supera le etichette supera le mode supera le generazioni e oggi mi ritrovo davvero grato molto grato e molto orgoglioso di quello che ho fatto ma mi ritrovo veramente un tesoro fra le mani che è il rapporto con un pubblico di più generazioni che è un repertorio estremamente vasto rispetto diciamo così a quello che uno si può immaginare per un cantautore e questo per me è una cosa che ecco è veramente il bello della mia storia cioè il repertorio costruito con fiducia e un rapporto con il pubblico che ha superato le generazioni ecco che è nato oltre le generazioni questo è stato fatto ovviamente con un enorme quantitativo di sacrificio e di lavoro enorme gigantesco totale il viaggio che ho fatto in Alaska è un sintomo di quel lavoro di questi anni erano più di 15 anni che oggettivamente non mi concedevo una sensazione di libertà come dire di appropriarmi delle mie sensazioni senza come dire senza fustigarmi dell'idea che comunque ci fosse ancora tanto tanto da fare tanto da fare tanto da fare tanto da fare quindi ecco sicuramente ti ringrazio per questo per questo complimento questo è questa considerazione però c'è un'altra prospettiva però secondo me e cioè secondo me una delle cose divertenti interessanti almeno quelle che mi stimolano ancora oggi delle mie carriere è quello di oltre a questo cioè riuscire a trasformare un'immagine di sé nata in un modo in un'altra nel corso di 25 anni lavorando in prospettiva questa è una cosa molto importante però la cosa interessante secondo me è dal punto di vista dell'influenza musicale cioè questa è la cosa che mi interessa di più è quella che mi incuriosisce anche di più i Lunapop sono stati un progetto del 1999 che proprio ha fatto come è che dicono i giovani quando uno fa il cambio è changing game changer game changer il momento di game changer esatto in cui la musica non è stata più giovanilista come era stata un pochino negli anni 80 e inizio degli 90 ma era giovane cioè era stata appropriata nella voce nell'anima nella scrittura e nella personalità di una persona di 17-18 anni e io ero il più grande della band e questa è stata una cosa molto importante per la musica italiana estremamente influente quelle robe le scrivevi anche anni prima cioè i pezzi che hanno avuto anche più successo li hai scritti anche qualche anno prima questo è incredibile sono nati a 15-16-17 anni quel disco è nato in quel periodo lì ma poi guarda sto riordinando adesso a casa l'enciclopedia di scritti di poesie di testi di canzoni e di lettere di diari che io ho accumulato tra i miei 13-14 quando sono in terza media fino più o meno al 2008-2010 quando gli smartphone hanno praticamente sostituito la penna certo si è scritto tantissimo fino a quando i telefonini le note le note si hanno sostituito è un quantitativo da psicopatico sinceramente sì sì completamente io lo dicevo mia madre ieri l'altro perché ho completamente tutto il salone di casa in vaso di fogli e la maggior parte sono scolastici sono diciamo pre-liceo ed è un quantitativo da compulsivo-ossessivo sicuramente non da personale diciamo che è servito a qualcosa quello scrivere ecco ma scrivevi scusami proprio quello che ti succedeva era diario in quel senso erano pensieri sparsi soprattutto canzoni ah tutte canzoni sì sì poi con un'ossessività di come dire di ordine anche mentale che non mi apparteneva nella vita io sono un disordinato di natura ma non da quel punto di vista nella mia testa a 16 anni guardando questi fogli che mi impressionano molto ma mi fanno anche fare pace un po' con me stesso nel senso che se tu non ti guardi mai indietro non riesci a capire bene bene come dire quali sono le caratteristiche che legano tutti gli anni della tua vita e arrivati a 43 anni se a un certo punto vedi che da quando ne hai 12 fino ad oggi sei sempre stato uguale in quei punti in quelle caratteristiche già che tu faccia pace con queste cose non è che puoi tornare a dirti sono sbagliato non vado bene forse dovrei stare meglio forse dovrei essere più felice a un certo punto devi fare pace con chi sei e lo capisci guardandoti fin da piccolo e la scrittura è stata il filo conduttore che ha legato tutta la mia vita io ho passato veramente quasi metà della mia vita probabilmente a scrivere beh che però appunto dicevamo in quel momento lì poi era la prima volta che erano veramente dei ragazzi giovani a cantare musica per giovani diciamo così che è stato un momento nel quale si percepiva la forza di quel progetto secondo me ed è anche il fatto per cui oggi tantissimi giovani musicisti cantautori giovanissimi anche rapper ieri Rosa McCamick ha fatto 50 special a Milano ma anche altri tanti ragazzi che mi scrivono e che in qualche maniera mi vedono in una certa maniera ecco credo che sia perché veramente quel progetto era l'UNAPO sono stati un progetto veramente giovane nel vero senso della parola cioè era in mano mia come dire la scrittura di quelle canzoni gli arrangiamenti nascevano da un'ispirazione anglosassone perché quello era il periodo ma avrebbero potuto essere arrangiati anche in maniera diversa probabilmente quando i LUNAPO sono finiti e sono finiti ovviamente in maniera traumatica per me in quel periodo essere cantautori non è che te lo regalavano perché un ufficio stampa chiamava e diceva il mio artista era un cantautore e il giornalista scriveva cantautore sul giornale essere cantautori è una cosa che anche un autore come me io che scrivo le canzoni non mi addardavo a chiamarmi cantautore non bastava scrivere una canzone o scriverle era una questione anche di credibilità ed era un percorso e tutto in quel periodo lì negli anni 90 nel mio immaginario musicale era un percorso che dovevo fare e quando mi sono trovato a dover affrontare la macchiera da solista è stato molto interessante riletto oggi è stato molto faticoso lì molto duro perché mi sono trovato di colpo come dire nessuno a sentirmi cantare i live erano vuoti e i dischi da 1.700.000 copie vendevo 200.000 copie 150.000 copie 50.000 copie 25.000 copie a un certo punto immagina la pressione a 22 anni una pressione molto forte sia come dire umana personale in giro per la strada ma anche nell'industria discografica però lì ho come dire ho tirato fuori diciamo ecco quella visione no legata all'amore profondissimo verso la musica alla passione gigantesca all'energia enorme che avevo e che ho ancora e ho iniziato a entrare in un percorso autorale di evoluzione rapidissima cioè il secondo album da solista Bagus come un disco di ubriacatura di post ubriacatura e poi Maggese cioè un disco acustico cantautorale ispirato a Dylan all'America e a De Gregori e a un certo tipo di approccio quel disco lì che conteneva Marmellata numero 25 Sardegna Le tue parole fanno male aveva dentro l'essenza dell'intimità della camera da letto dei cantautori più giovani che sarebbero venuti dieci anni dopo dell'indie pop di quel mondo di sensibilità estremamente pura fuori schema naif ok ecco questo è il lato più interessante secondo me della mia storia cioè che questo mio diciamo così bisogno di crescere bisogno di non accontentarmi bisogno queste caratteristiche che sono sempre state le mie di non andare nel mio territorio e comunque di subire anche difficoltà e in queste difficoltà reagire crea un motore che può essere molto influente per chi fa il mio mestiere questa è la cosa che a me affascina di più la difficoltà mia che diventa un dono ecco un condividere con il mondo della musica italiana è quello per cui mi sbatto è anche quello che ti ha tenuto focalizzato anche in quei momenti in cui le cose non andavano bene probabilmente sì anche se ecco il live che oggi è diciamo il fiore all'occhiello del mio progetto nel senso che ha raggiunto risultati veramente straordinari che come dire sicuramente in quei 10-12 anni della mia carriera in cui sono stato praticamente con dei posti vuoti cioè questa è la realtà comunque 10-12 anni non sono pochi è stato molto dura però poi è incredibile tutte le storie si assomigliano per quello che dico bisogna guardare gli artisti attraverso la storia di tutti gli altri non basta solo guardare la loro esperienza bisogna riuscire a metterla in collegamento con tutti gli altri tutti quelli che poi hanno avuto una lunga carriera tutti quelli che hanno avuto una grande lunga carriera io sono al 25esimo anno quindi un'enormità nel mondo della musica hanno avuto un'esperienza nella quale la cornice culturale alla quale loro si rivolgevano a un certo punto si spostava e lì quelli che hanno avuto una grande carriera una lunga carriera sono andati dritti fuori come diceva mio padre non andare fuori pista mi diceva ecco nella vita a volte andare fuori pista significa andare dritti cioè quando la cornice culturale si sposta quando il parere comune le mode trasformano questo cerchio in cui dovresti essere sempre al centro per avere successo sempre ma è impossibile e si sposta allora quel punto lì tu devi andare dritto perché tanto la cornice culturale prima o poi torna e in quel momento ti torna tutto indietro cazzo questa cosa è preziosissima questa è una cosa molto importante perché quando la cornice culturale si sposta il discografico il manager l'impresario l'industria non dice mai vai dritto dice vai là segui segui perché lei sta seguendo perché è questo che succede cioè io sogno un'industria discografica un'industria dell'intrattenimento della cultura che come dire aiuta a governare questa cornice invece la cornice si sposta e noi siamo sempre a inseguirla e questo fa sì che molti artisti come dire vengono lanciati negli per spazio per seguire questa cornice che si sposta e poi appena torna indietro si sono persi mentre se tu vai dritto sai delle cose da dire certo partiamo da quel presupposto partiamo da quel presupposto se hai un tuo un tuo sguardo sulle cose allora conviene veramente andare dritto si fa un po' più fatica è molto doloroso alle volte perché vedi sai cosa significa quando vedi gli altri avere successo e tu no e dici ma perché eppure sto facendo cioè so cosa sto facendo poi quando torna indietro è lì che tocchi più generazione e oggi sta cosa è ancora più veloce nel senso che il cambiamento continua a essere così veloce che questo diciamo questo cerchio che è e si muove velocissimo ecco non saprei come affrontarlo se avessi 20 anni oggi devo dire la verità mi come dire sono contento di avere 43 anni sono contento perché non saprei governarlo però i ragazzi i ragazzini di oggi sanno molto meglio di me come governarlo io non me la sento mai di giudicare il modo in cui oggi viene promossa la musica perché oggettivamente credo di avere qualcosa da imparare perché è difficile oggi capire la più grande fortuna che come dire resterà della mia storia è che spero di coltivare ancora comunque rimane al repertorio ecco quella è una cosa che oggi è difficile costruire perché è tutto talmente rapido che forse un ragazzo di oggi forse non ci pensa neanche più al repertorio invece per me era una legge cioè tu già dall'inizio pensavi questa canzone qua fra dieci anni per me sarà importante se tu guardi i miei quaderni da piccolo sono 40 pieni di canzoni a 15 anni io facevo la lista e creavo i canzonieri della mia carriera li scrivevo a penna con anche giorno e data e ora in cui avevo scritto quella canzone con tutte le note gli accordi di ogni canzone sopra il testo scritto a mano e se sbagliavo via da capo ero un po' matto però ho capito guardandolo in questi giorni che o sei così o sei così o sei così o sei così o se no diventa veramente complicato in tutto insomma quel percorso che dicevi prima quando ti sei accorto che qualcosa stava iniziando a tornare indietro cioè l'album che hai citato insomma con Magese Magese con dentro quello era già stato Magese è stato un mega flop ho fatto un tour teatrale con l'orchestra che mi ha indebitato enormemente e sono andato a fare centinaia di concerti gratuiti durante l'estate però è stata un'esperienza artistica importante perché Marmellata oggi beh cazzo è una delle più è una delle canzoni diciamo più importanti diciamo del mio racconto perché poi nel mio racconto ci sono appuntamenti che sono come lo stesso processo mentale accaduto dieci anni dopo vent'anni dopo nessuno vuole essere Robin nella mia testa è la marmellata dei miei 35-36 anni quando l'ho scritta ci sono un po' di collegamento ovviamente perché poi sei la stessa persona solo che se tu vivi con la stessa intensità ogni fase della vita con lo stesso spirito come dire di cercatore se non ti accontenti della tua zona dove dovresti stare ma vai a cercare di pescare qualcosa nel lago dove pescano quelli più grandi vai sempre avanti così per tutta la vita che è stata una cosa che ha sempre cantato distinto la mia esistenza nel mondo della musica poi ti ritrovi a rivivere degli appuntamenti come dire con la scrittura che magari sono collegabili a certe fasi anche del passato tipo marmellata oppure le tue parole fanno male viene a vedere perché viene a vedere perché è una canzone che io ho scritto a vent'anni mi fa impressione oggi cantarla negli stadi a 43 e sentire che il suo sviluppo armonico la sua melodia il suo testo sono ancora così amati e cantati dalle persone dicono di me le 6 e 26 il comico una come te poetica nessuno vuole essere Robin sono così tante che si perde il conto beh sì e hanno tutti un effetto incredibile sulla gente e quindi se non era neanche quello quando è stato il momento in cui tu hai iniziato a capire che qualcosa tornava è sicuramente mondo ah ok mondo con Lorenzo perché proprio è stato un cambio di rotta mio anche in quel momento io ho chiuso un'esperienza decennale con la Warner e chiuso un'esperienza decennale di concerti andati praticamente tutti malissimo mi sono trovato di nuovo a riformulare dei progetti da capo e per quello che i contratti troppo lunghi nel mondo della musica non sono mai una gran cosa perché poi se ti trovi male ti spengono ti uccidono piano piano ti martellano e lì ho cambiato ho passato da Warner a Universal quindi una nuova situazione e poi sono tornato diciamo con Live Nation dal punto di vista Live a lavorare con Live Nation con un progetto nuovo in cui ci siamo dati l'obiettivo di tornare di dargli quello che secondo loro io meritavo e secondo loro dicevano secondo noi tu sei uno dei più bravi a stare sul palco è inspiegabile che tu stia facendo così tanta fatica io ti parlo di concerti nei palasporti in cui giravamo il palco perché c'erano 300 persone su 12.000 e quindi si girava verso il canestro e a quel punto lì io mi sono guardato semplicemente allo specchio e mi sono detto devi decidere tu con te stesso se hai l'energia perché avevo dato veramente tutto in quegli anni ed era stato complesso per me se hai l'energia di poterlo di poter riprendere e darti altri dieci anni per raggiungere con i tuoi obiettivi e lì mi sono guardato allo specchio avevo 30 anni che non sono 15 non sono 20 però ce li avevo perché io il gas l'ho sempre avuto sempre è una cosa che ancora oggi non si esaurisce e allora ho detto posso ancora fare quello che credo sia giusto per me posso provarci e ho iniziato anche a scrivere in maniera diversa cioè mi sono tolto da una specie di involucro di chiusura che io ero molto intimo molto sempre più legato alla mia intimità più 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 nascosta molto delicato anche nel modo di scrivere quei tre dischi lì il primo bacio sulla luna magese sono dischi che hanno una delicatezza cantautorale forse mi stavo definendo volevo definirmi come autore volevo arrivare a quell'obiettivo ho iniziato a scrivere in maniera più più imponente più più come si dice noi le chiamiamo boombastic song perché non sappiamo come definire quel periodo della mia carriera c'è logico c'è mondo c'è poetica che sono tre diciamo così per la mia carriera tre bombe tre belle dei manifesti anche di quel periodo forse che stavi che stavi vivendo beh mondo è molto simile al viaggio che ho fatto adesso cioè mondo è una canzone che dice come un gatto vagabondo e quello spirito un po' selvatico è una cosa che è stata sempre una mia caratteristica ecco mondo logico grey goose sono tutte canzoni che oggi nei concerti sono diventate proprio anche anche culto non so come dire sono quelle che ti capita di canticchiare di fare come riferimento anche in un discorso eccetera ti rendi conto di questa cosa no sai che ancora oggi a volte mi sveglio e veramente mi chiedo mi ascolto le mie canzoni le sento più come una biografia che come il repertorio vero di un cantante famoso perché nella mia testa ancora questa cosa non si è del tutto destabilizzata lo capisco un po' da come funziona la cosa soprattutto negli ultimi due o tre anni ho visto che questi 25 anni di carriera di storia mi hanno posizionato in un punto e sono guardato sono visto in una certa maniera anche delle nuovissime generazioni è questo anche però è difficilissimo cioè io immagino anche tu magari all'età adolescenziale tu come come vedevi i più grandi ci penso sempre perché quando ero piccolino ovviamente avevo anche io i miei artisti di riferimento dell'epoca e della generazione che io a cui appartenevo Lorenzo è stata la pop star diciamo della mia generazione in Italia e anche lui con un percorso incredibile che si è voluto insieme ai suoi fan e anche a me però guardavo che ne so Vasco che veniva da prima e faceva dischi che io non ero ancora nato ora io ieri sono stato pochi giorni fa sono stata la cattolica all'università di Parca di Ramiano e ci pensavo solo tre anni indietro che avevano 22 anni io 25 di carriera quindi che per loro quando è uscito Squares 50 Special loro avevano meno tre anni o meno quattro anni e mi sono sempre chiesto questa cosa come si guardano le cose che sono accadute prima che tu nascessi tu ti ricordi come era io mi ricordo anche gli eventi politici cioè tipo l'omicidio Moro è una cosa che è avvenuta pochi anni prima che io nascessi l'omicidio di John Lennon voglio dire la morte di John Lennon oppure alcune canzoni dell'inizio degli anni 80 che io ho avvertito come cose come dire che mi sono arrivate che erano già famose eppure avevano 4-5 anni di vita ma io non me ne ricordavo più tipo bollicine o le canzoni di Vasco in particolare modo che cos'è che fa sì che tu le possa riconoscere anche da più grande come tue perché Vasco è arrivato a me che avevo 15 anni in una maniera così forte così imponente dentro di me nonostante fosse qualcosa che era cominciato prima che nascessi quindi che tu non avverti come una roba tua come era stato per esempio Lorenzo come sono anche oggi alcune grandi star della musica italiana che sono diventati idoli per i più ragazzini e loro giustamente le reputano il loro riferimento e non devo essere io però le mie canzoni arrivano un po' come mi arrivavano a me quelle degli artisti che poi ho amato anche durante la mia vita ma che venivano prima della mia nascita persino io non ti so rispondere al perché io so che sta accadendo ed è una cosa che è il sogno di qualunque persona che fa il mio mestiere però forse è la verità cioè io credo che sia la verità la differenza una verità che non vuol dire come dire che tu non puoi essere ingegnoso nelle cose che fai è una verità che va oltre questa definizione cioè la verità vuol dire che c'è uno spirito dentro che c'è un'anima e quell'anima può raggiungere anche i messaggi che con questa verità cerchi di far arrivare le persone superano le generazioni cioè sono dei come dire messaggi universali anche da quel punto di vista non lo so ieri guardavo 50 special cantata da tantissimi ragazzi con questo coro di ragazzini di 15 anni 16 anni 17 anni adesso non so quanti anni abbiano che cantavano a squarcia e gola 50 special oggettivamente io ero sul mio divano di casa che stavo per andare a dormire stavo stavo scrivendo una canzone nuova e stavo lavorando sulla melodia e sai accadono queste cose e tu non ne sei non sei il protagonista è lei è andata è il mondo è il mondo che va avanti e va avanti in quella maniera lì in cui qualcosa che hai fatto ti trasmette in più generazioni è una cosa veramente molto ma c'è anche qualche canzone tua che non credevi che poi avrebbe avuto tutto questo successo o viceversa la più ascoltata della mia carriera è quella che io pensavo che non avrebbe avuto perché la nuova stella di Broadway è una canzone che sullo Spotify è mio insomma ma anche nell'immaginario forse ecco delle nuove generazioni è passata moltissimo ma io l'avevo messa al decimo posto dell'album non ci credevi tanto per me la nuova stella di Broadway non era una canzone così significante e poi però è giusto che il pubblico ti faccia accorgere di alcuni valori che hanno le cose che tu non conoscevi chiaro il riscontro invece al di là del live che hai con le persone quando sei andato all'università eccetera qual è la mia sensazione è che le persone ti vogliano bene ed è la cosa più bella che ci possa essere io voglio bene anche loro nel senso che non mi interessa molto diciamo il fatto cioè quando una persona come direttiva è con troppa ti usanano questa non è non crea un bel rapporto nel senso che crea una distanza io cerco sempre di rassicurarli dicendo guarda che io sono tranquillo nel senso a me piace proprio il contatto umano con le persone è una grande fortuna quella di avere successo e questo ti porta a incontrare una quantità di persone di esseri umani del tuo paese poi della tua città del posto in cui vivi del posto che ami così tanto vasta a darti una percezione umana dell'essere umano così completa così vasta rispetto a chi vive nel suo circoletto nel suo pub nelle sue cose vede quelle 20 persone tutta la vita ecco l'apertura verso gli altri è una cosa molto importante ma io credo che mi venga data mi è stata donata un po' da mio papà nel senso che mio papà era un medico era un bravissimo medico e lui aveva questo amore questo rispetto questo contatto con i suoi pazienti che erano centinaia ed era mio padre era il medico di una comunità e questo rispetto che lui dava ai suoi pazienti trattandoli molto spesso al pari dei suoi figli perché io mi rendevo conto proprio percepivo che mio padre mi trattava uguale io volevo come i suoi pazienti a volte anche di meno per certi versi è una cosa che ho immagazzinato come una proprietà proprio genetica spero di poterla passare ai miei figli persino se li avrò e questo mi ha dato una lettura come dire una disponibilità e un amore verso la gente per le persone io credo molto nella gente credo nelle persone credo nelle comunità di persone mi piace mi piace quando quando si uniscono per un evento per un evento artistico per un evento musicale per un evento sportivo è una cosa che io amo follemente mi piace stare in mezzo a loro a tal proposito quando hai fatto il tuo primo stadio che sensazione hai provato proprio in virtù di tutto questo il primo San Siro nel 2018 beh la mia storia deve essere una roba cioè dopo che hai vissuto tutte quelle cose lì ti passa il fin della tua vita si devi sempre mettere relazione nel mio caso anche il percorso che ho fatto perché infatti San Siro come dire poi in quegli anni lì nel 2018 era ancora un momento in cui era ancora un po' una conquista riuscire a fare sì è vero io sono stato l'ultimo forse che ha fatto in quel momento uno stadio in quella maniera lì in cui ancora era come dire ok entri in un tempio in un tempio che come dire ancora si rifletteva come ti dicevo sempre sul puoi permettertelo di pensarlo di farlo oppure no io mi ricordo quando ero nel Luna perché decidemmo di non fare un turno negli stadi decidemmo di non fare gli ospiti a Sanremo il motivo fu molto semplice perché eravamo troppo giovani il percorso andava fatto era un periodo diverso era diverso cioè in quel momento tu prendi coscienza e anche a quell'età decidi di non magari accettare quella che potrebbe essere un'occasione che chiunque vede incredibile perché sul percorso ci perdi sì è come dire anche se mi dissero un laro d'onore ma io penserei se il percorso che ho fatto è giusto per riceverla e soprattutto penserei se al di là delle tipiche voglio dire conveniente che ci sono in queste operazioni perché conviene all'università conviene all'artista eccetera eccetera lo sportivo o chiunque altro se è una cosa che in che maniera è coerente col percorso che sto facendo altrimenti direi di no non si può dire sempre sì solamente perché ti conviene in quell'istante perché poi è un prezzo che poi paghi più avanti e comunque le persone se ne accorgono di questo secondo me comunque tornando mi perdo negli stadi molta confusione nella prima mezz'ora del concerto e mi ricordo non avevo capito niente io sono uno che ha tutto questo controllo troppo troppo forte troppo imponente e c'è sempre è come andare nella MotoGP secondo me cioè passi di categoria e il primo anno qualche gara ci vuole perché tu capisca come funziona il gioco la capacità il lavoro lì non è come dire pensare troppo che sei a San Siro ma imparare a capire come fare gli stadi perché la volta dopo devi essere al tuo massimo e mi è successo così con l'Olimpico e con San Siro cioè a San Siro la prima volta la prima mezz'ora ti giuro non ci ho capito niente sono uscito dicendo Dio mai più mai più sì perché è veramente imponente la questione e poi dipende anche delle sensibilità dipende che cosa tu cerchi durante un tuo show sono artisti che stanno fermi immobili e cantano altri che si muovono un po' di più per me è un'esperienza globale totalizzante un concerto cioè non posso farlo in una maniera come dire a metà non posso farlo con la testa e l'anno dopo due anni dopo quando l'ho rifatto invece ero a casa mia proprio e quindi avevo imparato il meccanismo come gestire quella pressione e stessa cosa è successa all'Olimpico il primo Olimpico è stato molto tosto perché c'erano come dire i romani sono un pubblico straordinario e ho sentivo l'Olimpico anche come location e l'anno scorso è stato forse uno dei concerti più belli della mia vita è una è una macchina quella degli stadi che non è mica così scontato dire che sia per tutti sai no beh anzi un conto è andarci un conto è saperlo fare ci vuole un percorso per poterlo fare beh sì a chiunque è capitato di andare a vedere dei concerti negli stadi c'è differenza cioè lo vedi quando cambiano delle cose in base all'artista in base a quanto effettivamente come dici tu quello stadio arrivi da un percorso perché anche quello è importante secondo me è una cosa che è giusto dirla ma non perché si parli di me o di qualcunque altro io credo che sia giusto che proprio sia questo l'approccio nelle cose nel senso che penso che sia giusto che che tutti in qualche maniera riflettono un pochino sulle cose perché perché non è come dire non è che si può dire voglio guidare in MotoGP e ci vai e quello significa che lo hai fatto certo purtroppo non è quello che funziona così per giocare in MotoGP devi saper fare podio come direbbero amici che tu hai conosciuto e poi magari vincere un mondiale ecco allora la storia cambia è quello di conta sicuramente un'altra cosa che mi ha colpito molto è che credo che chiunque ti abbia seguito negli anni ha ascoltato l'automusica eccetera abbia vissuto come veramente un amico che era felice era cioè quando sei andato a Sanremo ospite grazie lì eri veramente è bella questa cosa beh cavolo cioè è come vedere cazzo il tuo amico o viceversa cioè è stato è bella questa cosa che dici si vedeva che era una cosa sempre in virtù poi adesso con quello che hai raccontato e ti ringrazio perché secondo me è di un'ispirazione incredibile perché siamo sempre abituati a vedere lo stadio ma cazzo lo stadio ci arrivi con tutta questa roba che hai raccontato se ci arrivi e poi anche la storia di Sanremo arriva in un momento particolare in cui tu te la sei anche potuta godere beh Sanremo è stata una cosa molto particolare perché per me è stato un all in nel senso che io non sono non andavo in televisione diciamo così a proporre la mia musica da molti anni perché come ti avevo detto avevo scommesso in maniera piuttosto complicata da gestire come una scommessa difficile di arrivarci con le canzoni e Sanremo vuol dire tutti gli anni tutti gli anni che prima di quella mia esibizione avrei potuto andarci sia come avrei potuto propormi come ospite ma soprattutto avrei potuto andarci come concorrente ma soprattutto come ospite e mi è successo due due volte che mi chiedessero di andarci anche lì o come ti dicevo prima ho detto di no non con spocchia ma perché il percorso che tu devi fare per arrivare nel punto giusto e arrivarci con il repertorio giusto con la credibilità giusta è fondamentale nelle cose che fai come dire ti puoi bruciare ti puoi fare del male pensa sempre allo sport che è il mio riferimento preferito in quasi tutte le cose perché è semplice un giocatore di calcio il percorso che fa per arrivare in Serie A le squadre che attraversa gli allenatori che vive le società che incontra la famiglia la città in cui vive è veramente delicata la questione di una carriera che voglia porsi a quei livelli e Sanremo era il momento giusto quello avevo accumulato una serie di canzoni e di percorso artistico che mi dava la possibilità di esprimermi al 100% raccontando una storia corposa voglio dire con un peso specifico ecco lo avessi fatto dieci anni prima probabilmente non avrebbe avuto lo stesso effetto non avrebbe avuto lo stesso peso e lo stesso effetto sia all'interno della mia storia che all'interno forse del contesto in cui mi sono mosso e chiesi a Sanremo Amadeus e Lucio Presta di darmi carta bianca di darmi la possibilità di fare una cosa che non era stata fatta fino a quel momento e cioè darmi 15 minuti interi perché le mie canzoni erano tante e quindi non potevo farne due perché non mi raccontavano quindi ho dovuto a fatica comunque sceglierle mi sono confrontato con loro su quali fossero le canzoni forse più giuste per lo show però mi hanno dato questa grande possibilità di creare un precedente ecco e cioè un'esibizione di 15 minuti tante ore che prima che sono salito sul palco mi sono fatto un sceglierle e mi sono detto 15 minuti può succedere di tutto era successa anche quella storia del cameraman che era diventato un meme che c'era il cameraman è stato bello perché lui poverino mi seguiva mi seguiva è difficile però star dietro l'ho visto cadere no? e ho pensato ecco è successo è successo è successo fin qui andava tutto bene siamo a 12 minuti e mi mancano le 3 e allora ho visto che mi cascava e ho semplicemente controllato con la coda dell'occhio perché ero nel pieno dell'acuto di poetica ho controllato che non posso cascare dentro contro la la roba dell'orchestra dell'orchestra perché se cascava giù secondo me interrompevamo la poltrasmissione e diventava complicata era dura perché cosa pesa però vedi anche quando ci sono le cose giuste poi anche gli imprevisti diventano un valore non so come dire poi diventate una roba di cui il giorno dopo anche si è raccontato adesso ti racconto una cosa che non ho mai detto a nessuno che è importante perché poi un po' di la specie di dire delle cose mi sa che non ho detto anche tante che ho detto a nessuno qui però la cosa che fa ridere è che se vedete su youtube e guardate per l'esibizione adesso non so se è su Raiplay a un certo punto sul finale c'era questo finale epico no super culmine che mi dovevo e lo facevo anche in tour mi sdraiavo in ginocchio sopra le scintille no queste mega scintille che erano la prima volta che mi hanno portato a Sanremo cioè non c'erano mai state a Sanremo le scintille che cascavano giù Pyros si chiamano allora e poi era il finale per cui dopo 15 minuti di esibizione finalmente mi inginocchiavo e finiva poetica dopo c'era solamente la coda mi sdraio con le ginocchia sul pavimento mi chino sul pavimento con le ginocchia e sento strap no e mi si è aperto tutto il pantalone davanti completamente aperto sai tutto il cavallo si era strappato e quindi si vede nel video di youtube si vede che dove c'è l'esibizione si vede che io faccio così e faccio e perché cioè abbassi la testa e non era un cenno e mi chiedo che cosa che cosa faccio adesso perché ci sono 15 milioni di persone dietro sono al finale di un'esibizione storica sì sì non posso rovinarla allora mi sono voltato verso Amadeus che gli ho detto mi sono strappato i pantaloni lui si è messo a ridere allora io mi sono alzato e ho fatto l'inchino si vede che faccio l'inchino con le gambe incrociate chiuse adesso adesso andiamo subito a rivedere il video e poi soprattutto fuggo via infatti c'era un'intervista da fare Amadeus mi diceva tornerà dopo tornerà dopo e comunque lui aveva capito quello che gli avevi detto cioè il giorno dopo se fossi uscito con le braga aperte no no avresti rovinato avrebbero parlato solo di quello e non di tutto il resto no invece si è parlato tantissimo dell'esibizione proprio perché alla gente è arrivato tutto questo che hai raccontato tra l'altro in tutto questo percorso in tutte le cose successe quanto sono importanti anche le persone che hai intorno tu nella tua vita enormemente la mia ex fidanzata quella con cui io ho attraversato la Martina con cui ho attraversato quel periodo ha avuto un ruolo enorme nella gestione soprattutto della vita quotidiana cioè quando ti prepari per eventi così importanti come un tour hai bisogno di purtroppo hai bisogno di essere supportato e anche un po' protetto nel senso che che ne so devi smettere completamente di bere per settimane oppure devi allenarti tutti i giorni la vita canta sì perché c'è proprio un allenamento anche fisico perché per reggere su un palco e fare una performance come anche quelle che fai tu è permettere anche un certo tipo di outfit nel senso devi essere in forma no no riesci anche quello è vero purtroppo no mi sono allenato per il turno di stadi tantissimo e ho veramente dato tutto anche per Sanremo mi sono veramente molto impegnato per arrivarci concentrato in forma mentalmente come dire era la prima volta che andavo tanti anni in televisione Sanremo veramente ti destabilizza perché è un posto diverso da tutti gli altri e ti giochi un pochino tutto lì nel senso che se sbagli lì soprattutto quando hai tanti anni di carriera insomma dopo non è che vai letto sereno secondo me beh tu ti sei visto cambiato tanto io tipo quando ero quando ero un ragazzino e voi facevate il luna pop in giro a questo ricordo che andavate non so top of the pops e facevate questa cosa di fermarci il playback di fermarvi erano proprio i cretini e io ero ragazzi diciamo che grandi pensi che fanno sta roba perché noi volevamo assolutamente volevamo tanto cambiare le regole cioè era proprio una presunzione che tutti quelli che fanno un esordio come dire devono avere forse vogliono comunque arrivare a cambiare le regole cioè o comunque creare casino se tu ci pensi luna pop sono stati un progetto come dire indipendente di un'etichetta indipendente piccolissima che ha venduto oltre un milione e setecentomila copie di un progetto di una band come dire di ragazzi che suonava nelle feste di liceo nel circuito diciamo locale bolognese quindi è nato completamente diciamo dal basso diciamo non ho mai io non ho parlato con il discografico fino al 2003 senza nessuno che come dire dicesse mai una sola parola per dire cosa dovevo fare cosa dovevo scrivere cosa dovevo come dovevo comportarmi per cui eravamo veramente tra virgolette punk ma sul serio cioè eravamo veramente cani sciolti liberi e realmente giovani e poi non conosciamo niente e non ce ne fregava niente dei meccanismi della discografia ed è secondo me è stata una delle cose più fighe di quel progetto ma secondo me anche più fighe della musica italiana degli ultimi anni tant'è vero che quello spirito è ancora vivo ed è il motivo per cui i ragazzi più giovani cantano quelle canzoni e non le sentono come una vecchia canzone come dire imposta o così secondo me è quello il vero segreto di quella cosa beh in quel periodo poi si avvertiva questa cosa tu con tutto il resto del gruppo vabbè con ballo sei sempre il rapporto che è sempre il protagonista ballo suona con me è sempre con te è il musicista e abbiamo davanti una vita nel senso che ballo suonerà con me per sempre perché chiaramente è un rapporto d'amicizia avete vissuto tutto quel periodo lì è stato subito così o c'è voluto un periodo per riabituarsi a questa cosa per la mia crea solista sì nel senso anche con il resto del gruppo cioè quando dopo un successo del genere dopo una cosa anche il rapporto umano cioè persone appunto no lì il gruppo finì per una questione non legata tanto ai rapporti umani eravamo giovanissimi avevamo 17 anni finì semplicemente perché come dire era talmente è stata talmente un'esplosione talmente grossa anche dal punto di vista dell'industria discografica in quel momento lì del mondo che è anche quello di avvocati di manager inizia a diventare un'altra cosa no no semplicemente a un certo punto si mettono in mezzo delle persone e le persone hanno l'interesse di succhiare il denaro fondamentalmente e purtroppo non tutti erano predisposti mentalmente per proteggersi totalmente da queste cose io e Ballo sì questa è l'unica cosa che posso dire di questo perché è l'unico motivo per cui questa cosa è andata così e Ballo poi tra l'altro veniva da un periodo della vita di diverso perché per esempio noi andavamo tutti a scuola e lui già lavorava perché non era il suo forte la scuola a meno da quello che mi racconta perché non lo facevo e lavorava in fabbrica per cui aveva una necessità forse anche di rivalse e di stare un pochino più attento degli altri a dire me ne vado non me ne vado cioè è stato un pochino più scomere lucimirante e adesso ha una famiglia stupenda è sposato è uno dei miei più cari amici e lo amo follemente ed è un grande bassista come dire nel contesto perfetto in cui lui deve esprimersi chiaro quanto è chiaramente immagino tanto ma Bologna in tutto questo in tutto questo percorso credo sia stata fondamentale fondamentale per tutte le ragioni che tutti conoscono e anche per qualcuna che in qualche maniera è proprio intima e personale cioè Bologna è un è stata la casa delle mie canzoni è una grande protezione soprattutto cioè la provincia vorrei dirti non tanto Bologna in sé che è una città come dire che ha i suoi pregi bellissimi ha i suoi difetti come tutte le città però è proprio una questione del mio legame con la provincia cioè secondo me vivere nella provincia che adesso mi viene in mente l'Emilia perché è una grande provincia siamo tutte città di una dimensione abbastanza ridotta non abbiamo una città che attira l'attenzione in una maniera troppo particolare come può essere Firenze Venezia eccetera eccetera Napoli logisticamente siamo in un punto imperfetto per muoversi per raggiungere tutto quindi lo scambio culturale lo scambio gastronomico lo scambio emotivo lo scambio anche come dire umano è abbastanza come dire privilegiato anche quelli forse più noti anche il fatto che un certo tipo di cantautorato anche arriva da il motivo per cui è importante è che è un cantautorato che non è mai stato condizionato da un'industria del settore cioè voglio dire lo sguardo emiliano bolognese sulla vita sulla musica sulle cose sul cinema eccetera eccetera sull'arte è uno sguardo parallelo che non subisce le influenze diciamo delle modi in una maniera troppo aggressiva perché siamo lontani dai centri diciamo dell'industria siamo lontani da Roma siamo lontani da Milano adesso più vicini che c'è il frecciorosso in un'ora in due ore vado in Roma però immaginati gli anni 70 gli anni 80 quanto in qualche maniera si potesse costruire una propria personalità e io dico sempre che il bello di vivere a Bologna immaginati Lucio Dalla che è stato un imperatore un grande imperatore della musica italiana e anche l'unico forse grande imperatore della musica bolognese l'industria non c'è è la città stessa l'industria è la città stessa la fortezza che contiene protegge sostiene un mestiere i mestieri del musicista dell'autore del cantautore e quindi è la città che crea queste mura di protezione non abbiamo bisogno diciamo abbiamo una cultura cos'è la cultura se non anche se è da immaginarsi una protezione una fortezza di un ideale di ideali di un certo modo di intendere come dire la creazione e quindi Bologna questo mi ha donato la possibilità di vivere in una città di crescere in una città che avesse questa grande grande tradizione culturale musicale ma completamente priva di tutte quelle deformazioni che l'industria del settore poi porta e fa nascere e anche un certo modo di vivere la vita questo è quello che sto parlando cioè quando tu non hai quando tu voglio dire quando tu hai cosa c'è di meglio di poter alzarsi la mattina e creare sapere che sei in una terra che ti sostiene questo progetto questa idea dell'invenzione della passione dell'autenticità nella passione sono tutte cose che la nostra terra ti trasmette proprio in maniera viscerale però l'industria non c'è non c'è non c'è la casisografica non c'è ci sono delle etichette che sono sempre poi legate a dei progetti culturali non c'è la pressione diciamo così della moda della moda che viene da fuori non l'avevo mai vista da questo punto di vista ma è verissimo è il motivo per il quale i bolognesi e gli emiliani li senti parlare al bar e discutono di strane loro filosofie un po' strambe un po' megalomani e di dubbio valore però però sono estremamente affascinati sì totale totale grande invidia anche da questo punto di vista però vedi è un punto di vista interessante al quale non avevo mai effettivamente pensato un'altra cosa che vabbè tu hai sempre mostrato grande rispetto per anche i nomi che hai citato comunque per gli artisti anche di generazioni precedenti qual è il tuo rapporto con gli altri artisti di questo cioè ci sono amici tuoi in tutto questo percorso dove hai visto chi magari è stato con te chi dice una cosa un giorno chi ne dice un'altra sono sono tanti gli amici che ho nel mondo della musica esatto tendo a non essere diciamo a non frequentare diciamo in maniera così costante assidua perché sono un po' solitario di mio e poi perché Bologna ripeto è un po' lontano si si resti fuori da quel giro ma sono diciamo così c'è talmente tanto rispetto da parte mia nei confronti di chi fa questo mestiere da prima e anche adesso sono sempre attento a cercare di capire io credo che la musica sia una questione di linguaggio più che altro e quindi non sopporto poi proprio non capisco come si possa giudicare per esempio gli artisti in base semplicemente il proprio gusto personale che esiste è ovvio che ti piacciono delle cose e no ma questo non vuol dire che per esempio tu come pubblico non debba dire ok a me non piace questa cosa non mi arriva non mi piace è il mio gusto mio gusto ma noi non siamo dei gelati cioè noi non siamo di gelateria cioè la musica è un linguaggio ora fermarsi un secondo e dire a me non piace però quel linguaggio io voglio conoscerlo è quello che si dovrebbe fare secondo me e quindi anche da questo punto di vista non mi interessa se un artista mi piace se mi piace quello che fa mi interessa moltissimo la sua mente dove è nato il suo linguaggio e quindi cerco di avere rapporti con più persone possibili in maniera amichevole perché è estremamente interessante la conoscenza da dove nascono ogni genere musicale ogni artista che nasce è difficile per me dire che esista una canzone bella o brutta mi interessa molto di più capire che linguaggio sta usando chiaro un altro un altro grande tema è che tu piaci molto alle donne io credo che questa cosa tu te ne sia reso conto e credo che questo nel mondo della musica sia anche particolare complesso come funziona quando un artista dedica una canzone che poi di grande successo a una donna e poi quella roba lì come si gestisce questa cosa nel senso la domanda mi sfugge deve essere più chiaro può essere capitato non so che nel tuo percorso velatamente o meno velatamente tu abbia dedicato canzoni cioè le donne restano una tua grande ispirazione le donne sono da sempre una mia ispirazione però bisogna cercare di essere come dire un pochino più cioè la donna per uno come me è stata proprio come dire l'interlocutore e anche se vuoi la la produttrice dell'elettricità ecco che in qualche maniera mi ha invaso da sempre cioè io ho sempre avuto più relazioni con donne che con uomini più dialogo con donne che con uomini più pathos ovviamente più passione più dolore con gli uomini forse è legato al rapporto che ho con mia madre non lo so però sta di fatto che la donna nella mia visione delle cose è molto semplificata al massimo e viene da quando sono piccolo arriva fino ad oggi c'è un'impossibilità una fatica di vivere e una salvezza e la salvezza della donna è sempre stato così il rapporto è questo la donna salvatrice la donna è l'unica che può salvare la donna come unico essere divino che può salvare come dire sono stato a vedere la casa di Petrarca ieri l'altro insomma la Laura la Beatrice citando altri i suoi poeti questa figura idealizzata della donna è sempre stata fin da quando ero bambino una costante in una vita invece che è in perenne costante crisi esistenziale in una perenne costante ricerca mettersi in discussione soffrirla attraversarla perché in realtà anche festeggiarla però questo è l'equilibrio della mia carriera ma dobbiamo essere molto secondo me rispettosi di questo tipo di problemi processi chimici perché a parte che sono tutti personali ma tu pensa a McEnroe McEnroe andava in campo e vinceva solamente quando si sentiva che ne so dentro di sé tornare quel bambino che i genitori lo sgridavano e allora cosa faceva faceva incazzare il pubblico cioè uno dei più grandi che mi ha dato la storia era costretto tutte le volte a sentire addosso il rimprovero del pubblico per poter dare il suo meglio e dopo in mezz'ora chiudeva le partite la psiche è veramente una cosa straordinaria da questo punto di vista tirare fuori il meglio di te è qualcosa che a volte ti fa fare delle cose che fanno del male agli altri che fanno male anche a te che non sono per l'opinione pubblica giusta ma poi il risultato finale e cioè come rendi in amore come rendi nella vita come rendi come padre come rendi come artista è la cosa che è più importante per cui bisogna saper sempre secondo me capire che come rendi sulla fine che conta di più cioè nei rapporti umani nei rapporti con gli amici nei rapporti con una fidanzata nel rapporto col tuo lavoro con i tuoi capi con i tuoi amici la cosa più importante è cosa che ti fa funzionare meglio se quello che ti fa funzionare meglio non è la cosa più giusta per gli altri farai più fatica però devi sapere sempre che è la cosa più importante ecco chiaro e quel discorso che ti dicevo della dedica era se anche tu stesso cioè sai uno magari si lascia prescindere che si può lasciare bene o male cerca sempre di chiudere dice basta io con qualcosa lì ho chiuso se ci scrivi una canzone che poi diventa anche un successo poi magari la devi anche ricantare quella canzone ma io sono felicissimo di cantare le canzoni che ho scritto per delle persone che ho amato e ho dei bellissimi rapporti anche grazie alle canzoni con le persone che ho amato che non ho più vicino a me ed è incredibile perché anche loro anche le persone con cui io ho sempre scritto per delle ragazze è stata una cosa che ha accompagnato tutta la mia carriera anche se ci sono tante canzoni tipo figlio di un re non è scritta per una ragazza alle 6.26 non è scritta per una ragazza dicono di me non è scritta per una ragazza ce ne sono tante ma ognuna contiene un rapporto molto intenso molto profondo è più difficile all'inizio quando ci si lascia perché lì in quel momento lì ti stai lasciando e magari esce la canzone che ha scritto per lei e purtroppo lei magari gli tocca sentire durante l'estate tutta l'estate anche l'altro punto di vista vorrebbe che tu non esistessi in quel momento invece tu magari gli crei una super e lei deve sentire sei al bar che fai colazione vorrei vorrei dimenticare ci credo e poi esco dall'argomento che è sempre molto particolare però no ma se vuoi che leggeriamo l'intervista no è divertente perché cioè divertente hai avuto insomma diverse relazioni alcune pubbliche alcune si sanno non si sanno anche questo insomma fa chiaramente poi parte della vita ne hai avuta una comunque con una persona che era un artista che faceva il tuo lavoro quella è la grande differenza soprattutto per chi fa musica avere un tipo di relazioni con una persona che invece fa tutt'altro o una persona che fa il tuo stesso lavoro che quindi da una parte può capire certe cose ma allo stesso tempo boh non lo so questa è veramente una domanda difficile perché poi anche le persone che fanno il tuo stesso mestiere spesso poi sono diverse l'un l'altro non è che la persona la fa il mestiere però in generale credo che sia meglio per chi è come me cioè per esempio con Malik è stato un amore nato veramente come dire intrecciato all'amore per l'arte no cioè ci siamo siamo entrati in una confidenza estrema perché l'arte è la nostra passione più grande e lei è una grande artista e quindi mi sono innamorato anche del suo approccio all'arte però poi insomma forse per uno come me è meglio trovare qualcosa certo di distanza sì sì forse nel tempo ho capito che è così ma non mi pongo queste domande poi alla fine non è che puoi scegliere chiaramente la donna e l'amore sono cose che sono ben più grandi anche del mestiere che facciamo però ecco credo che in qualche maniera ecco ci sia sempre il pericolo che ci si chiuda dentro alle stesse cose che poi ti tengono lì ma poi dopo quando finiscono ti guardi in faccia e ti dici ma noi dobbiamo stare insieme veramente o no sono quei nuotatori i nuotatori che hanno una vita terrificante che devono tutta la vita star limpi sono delle copie di nuotatori e di nuotatrici che sono stati stati insieme 40 anni perché hanno avuto una carriera lunghissima tutte le mattine la sera con la cappatoia buonatiamo buonanotte domani e c'è il stile libero dorso poi è finita la carriera sono guardati e ho detto ma noi che cosa abbiamo in comune a parte questo quello diventa un problema c'è questo pericolo la sindrome del nuotatore la chiamo io mamma mia allora per chiudere perché poi davvero è una boh pazzesco hai raccontato delle robe che secondo me sono veramente belle proprio dal punto di vista ispirazionale hai citato prima i tuoi genitori tua mamma eccetera anche per loro hai scritto una canzone che poi è diventata forse anche più di una però ce n'è una sono anche quelle che quando è il compleanno di tua mamma gli mandi perché dici questa è una è una canzone cacchio in tutto questo percorso loro come l'hanno vissuto secondo te cioè alcune cose ti ho sentito raccontare anche altri aneddoti forti anche del primo contratto dei primi soldini sì è quello che vivevo ancora con i miei esatto poi però ci sono degli aneddoti importanti che fanno ridere anche no sono simpatici buffi lì cos'è che era successo no vabbè è chiaro che come dire quando tu prendi 40.000 lire a settimana di paghetta per andare venerdì sera a mangiare il panino con gli amici e poi all'improvviso come dire tu entri in casa col tuo primo assegno della SIAE perché 50 special hai dato prima in classifica per tre mesi è un momento delicato alla famiglia no perché poi c'è una sensibilità diversa quindi c'era mio padre che si accese la sigaretta guardandomi come nella serie molto bene molto bene figliuolo eccellente eccellente e invece c'era mia madre che neanche camminando cioè volava no è tornata in cucina a finire di quindi stava sparecchiando eccetera eccetera perché aveva capito che mi aveva perso quindi sono delle sensibilità molto diverse però a parte questo nel corso degli anni mia madre e mio padre hanno capito subito che io ero completamente autonomo e che anzi loro avrebbero potuto creare problemi al mio percorso mia madre ieri l'ho vista ieri l'altro sono andato da lei anche a Pasqua scusami a Pasqua ho pranzato con lei e mi ha detto una cosa che forse è la giusta conclusione no e mi ha detto io devo dirti la verità da quando più o meno sei andato via di casa non ho mai avuto la sensazione che tu non potessi farcela da solo e questa è una cosa che dà la dimensione del fatto che da un certo punto fisico di vista non è vero e quindi non è vero questo ma allo stesso tempo mi ha poi reso insomma quello che sono questo rapporto con questa distanza questo lasciarmi andare ecco però non è vero che sono uno che sa cavarsela sempre da solo ecco a volte mi sarebbe servito forse pensare di avere avuto qualcuno che in qualche maniera pensasse no non ce la può fare da solo l'aiuto però poi alla fine ecco beh non mi sembra che questo film stia andando molto bene esatto Cesare io ti ringrazio un'infinità e credo anche a nome di tutti coloro che hanno ascoltato perché è veramente una cosa preziosa e quando vuoi quando sei in giro molto volentieri abbiamo detto che qui si può bussare si può bussare poi abbiamo un po' di amici in comune cose da fare la prossima sarà una cena spero grazie davvero davvero tantissimo Cesare Cremolini è passato dal basement ciao